Mi chiamo Elisa, ho 19 anni e vengo da Lecce. Sono al primo anno della MedTech School, un corso di laurea dell'Humanitas University in partnership con il Politecnico di Milano. Mi sono interessata alla scienza sin da quando ero una bambina, infatti all'età di 5 anni ero abbonata al giornalino scientifico Focus Junior. A 6 anni ho ricevuto come regalo di complanno il mio primo microscopio e sono sempre stata convinta di voler essere un medico da grande. È un corso di laurea di 6 anni che consente di ottenere un doppio titolo, una laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia ed una triennale in ingegneria biomedica. Oltre alle classiche materie insegnate a medicina e chirurgia, il piano di studi comprende un approfondimento delle materie di base tipiche dell'ingegnere biomedico, come la matematica, la fisica e computer science. Unendo le due facoltà, gli sbocchi lavorativi sono moltissimi. Si può diventare un medico tradizionale, un ricercatore oppure dedicarsi alla progettazione di dispositivi e tecnologie biomediche. Innanzitutto per il piano di studi, poi per l'ambiente internazionale, infatti si studia in inglese e ci si confronta con culture di tutto il mondo. Infine perché offre l'opportunità di frequentare un simulation center, che non è altro che un laboratorio che riproduce l'ambiente ospedaliero, solo che al posto dei pazienti visitiamo manichini tecnologici. Questo ci consente di avere una preparazione adeguata anche per lavorare in particolare in America. La cosa che amo di più del mio programma di studi è la fusione delle materie tradizionali della facoltà di medicina con lo studio di tecnologie proprie dell'ingegnere biomedico. Gli esami che più mi affascinano infatti sono Artificial Intelligence e Healthcare Robotics. Penso che sia fondamentale infatti per i medici del futuro essere consapevoli delle nuove avanguardie tecnologiche e saperle utilizzare. Mi piacerebbe proseguire con una magistrale in ingegneria genetica o chimica per poi dedicarmi alla ricerca, ma sono solo all'inizio quindi potrei cambiare idea strada facendo. Vorrei lavorare a Milano perché è la città più all'avanguardia d'Italia, sia per i servizi ma soprattutto per le opportunità lavorative.